Quando Rita Levi Montalcini va in America e le chiedono chi è il suo marito, lei risponde io sono il marito di me stessa. Rita Levi Montalcini è un personaggio meraviglioso. Grande, eccezionale. Come un'altra dice, mi si vorrebbe una buona moglie. Lei mi raccontò con un sorriso amaro che non avrebbe mai vinto il Nobel se il Duce non avesse fatto le leggi raffiali, costringendola a stare chiusa in uno stanzino sotto falso nome a lavorare i suoi esperimenti. E quando andò in America ricordava di aver visto le donne nere alzarsi in piedi sugli autobus per cedere il posto a uomini bianchi. Fino a quando una di loro, Rosa Parks, una donna delle pulizie dell'Alabama, rifiutò di alzarsi in piedi. Era cominciata la rivolta dei diritti civili, un'altra delle tante rivoluzioni fatte. Portate avanti dalle donne.